Arzignano. È rimasta ferita la conducente di un'auto che è carambolata a lungo via 1000 in tarda mattinata. Una perdita di controllo del mezzo su cui la polizia locale, intervenuta per i rilievi, sta indagando. La vettura, prima di fermarsi contro il cancello di un'abitazione capovolta sul fianco, ha strisciato anche un'auto parcheggiata lungo la carreggiata. È stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per liberare la donna dall'abitacolo che l'aveva imprigionata, permettendo così al personale del SUEM di prestare i primi soccorsi e trasferire l'infortunata all'ospedale. Il traffico regolare a conclusione delle operazioni è stato poi ripristinato verso le 13.